Benvenuti in Callaghan, un luogo dove ci impegniamo per creare collezioni che trasformino il camminare in un'esperienza straordinaria. Sono Basilio Garcia, CEO di Callaghan, un'azienda di calzature spagnole con oltre 50 anni di storia. Spesso le tecnologie più avanzate possono essere spiegate con un semplice gesto. È questo il caso di Callaghan Adaptation, una suola che si adatta alla larghezza del piede e al modo di camminare di ogni persona. Per capire come funziona la nostra tecnologia e tutto ciò che c'è dietro, dobbiamo iniziare dall'elemento più importante, il piede. Oltre ad essere uno dei meccanismi più complessi del corpo umano, è la base sulla quale appoggiamo tutto il nostro peso. Il piede, durante la camminata, si allarga da 5 a 8 mm e le sue calzature tradizionali non sono state create per adattarsi a questi cambiamenti. Partendo da questo cambiamento di larghezza e dalla differenza che esiste nel modo di camminare nelle persone, oltre al fatto che non esistono due piedi uguali, abbiamo iniziato a lavorare per creare calzature che si adattassero perfettamente ai piedi. Dopo oltre 15 anni dalla sua creazione, continuiamo a migliorare la tecnologia Callaghan Adaptation per renderla la migliore al mondo per camminare. Per questo abbiamo sviluppato nuovi sistemi di produzione e materiali esclusivi come Adapplight, un materiale che rende le calzature Callaghan più leggere, aumentando la capacità di assorbimento dell'impatto durante la camminata, proteggendo le articolazioni e fornendo un ritorno dell'energia per il passo successivo. Diversamente dai nostri competitors internazionali, la nostra mission è continuare a produrre in Spagna, nelle nostre fabbriche. Questo ci permette di evolvere i nuovi sistemi di produzione, essere più veloci sul mercato ed avere migliori materiali. L'Organizzazione Mondiale della Salute consiglia di camminare 30 minuti al giorno con un buon ritmo per mantenersi in salute. Noi di Callaghan ti incoraggiamo a camminare nella migliore palestra del mondo, la tua città, utilizzando il mezzo di trasporto che meno contamina al mondo, le tue Callaghan. Da diversi anni Callaghan si è impegnata verso la sostenibilità. Siamo un'azienda neutra nell'emissione di CO2. Compensiamo il 100% delle emissioni attraverso il nostro bosco con oltre 30.000 alberi piantati nelle zone limitrofe di Armedo. È arrivato il momento di avanzare insieme verso un mondo migliore e ora più che mai di tornare a camminare insieme.